ciao sono max de vergori di modelli successo e ti do il benvenuto a questo nuovo appuntamento dunque in qualità di mindset coach uno dei miei compiti è stimolare in te le giuste riflessioni al fine di farti prendere coscienza di qualcosa infatti solo quando prendiamo coscienza di qualcosa possiamo attivare un reale processo di cambiamento per farti acquisire questa consapevolezza il metodo più potente è quello di aiutarti a porti le domande giuste perché proprio le domande perché le risposte sono già presenti in tutto il creato le cose veramente importanti sono le domande che ci poniamo è solo così che possiamo guardare nella giusta direzione e scorgere la risposta che cerchiamo ergo chi cerca trova tuttavia per trovare devi prima di tutto sapere esattamente cosa cercare la domanda che ti faccio oggi è che vorrei che tu ti ponesse ogni giorno della tua vita è la seguente stai vivendo davvero questo è un esercizio che faccio da anni ormai e che mi aiuta a focalizzarmi sulle cose davvero importanti per me prendilo come un esercizio di ricalibrazione di valori infatti proprio come uno strumento di misurazione nel tempo tende a perdere la sua i nostri valori sono del tutto sballati diamo importanza a cose che non ne hanno e non diamo la giusta importanza invece a cose che ne hanno tanta il discorso è che l'attuale impostazione della società è la più grande arma di distrazione di massa attualmente esistente da cosa ci distrae questa società consumistica e dell'intrattenimento da noi stessi e dal vivere la nostra vita come vogliamo noi se ci pensi ci costringono a correre da una parte all'altra rincorrendo cose di cui secondo loro abbiamo bisogno in primis il denaro dobbiamo lavorare tutta la vita perché dobbiamo consumare e bisogna consumare perché dobbiamo spendere e per spendere pensa un po dobbiamo lavorare è un cane che si morde la coda un sistema che rende infelice l'uomo e lo fa giungere in punto di morte pieno di impianti attenzione sono assolutamente convinto che il lavoro nobilità dell'uomo ma a patto che all'uomo piaccia quel lavoro che trovi un senso in quel lavoro un senso in quello che fa per sé e per gli altri pertanto quindi per rispondere alla domanda iniziale e capire se stiamo vivendo davvero dobbiamo prima di tutto comprendere cosa significa per noi vivere davvero ognuno di noi ha dei valori precisi che differiscono da quelli delle altre persone dobbiamo chiederci cosa vogliamo davvero cosa significa per noi e non per gli altri o per la società vivere davvero se per te ad esempio vivere davvero significa avere una fattoria e prenderti cura degli animali quello il metro con cui devi misurare se stai vivendo davvero allo stesso modo se per te vivere davvero significa avere tanti amici uscire ogni sera ed avere una vita sociale attiva quella è l'unità di misura con cui misurare se stai vivendo davvero ecco un'altra domanda potente da porsi sempre per ricalibrare i nostri valori se la tua vita finisse domani cosa rimpiangeresti e di cosa avresti dimorso rispondendo a questa domanda potresti scoprire molte cose su di te e apportare quei cambiamenti che ti farebbero vivere davvero in serenità e con meno rimpianti possibili alla fine della tua vita io mi auguro che tu possa sempre vivere al meglio la tua esistenza e mi raccomando per iniziare questo processo poniti queste domande di questa puntata incomincia a falle entrare nella tua mente e riflettici col tempo te lo garantisco troverai le risposte e soprattutto farai le azioni che ti consentiranno di vivere la vita che vuoi bene siamo giunti alla fine di questa puntata e come sempre se i contenuti di modelli di successo ti piacciono pollice in su e iscriviti ai nostri canali per aggiornamenti noi ci vediamo la prossima un abbraccio da automax